Gesto, 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 Gesto Gesto, 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 Gesto Bernardi Battistelli, numero 50 Voi da dove venite? Da Varese Varese, prima volta? No, io ho già fatto un po' di anni fa a Val d'Aosta L'ultimo trofeo merende Lei no, lei di sicuro no perché è giovanissima No, no, siamo venuti qua perché comunque è un rally bellissimo Organizzato bene e speriamo di divertirci Ve lo auguriamo di tutto cuore Una ventina di secondi e poi anche questo equipaggio lascerà la pedana di partenza Iniziata intanto la prima prova speciale che ha preso il via alle 9.25 La fila, vi ricordiamo di seguito la Sarella alle 10.17 e la Len 2 alle 11.22 Dopodiché concorrenti e vetture ritorneranno ad Aosta per il riordino del parco assistente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti